ciao a tutti e bentornati su farmissimilatero 21 della mappa deutland allora ragazzi sono stato un po' diciamo tra virgolette in ferie se si possono chiamare ferie vabbè ho staccato un attimo come avete potuto vedere dal far video riprendiamo con la deutland perché questa è la scaletta e questo propone il canale come sembra bisogna di continuare con il video io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale per sfruttare video serie e tutto quello che sto facendo e che devo fare commentate condividete giù in descrizione ho tutti i link per seguirmi e supportarmi mi raccomando un bel pollicione su che andate con di the million like e mi piace e un piccolo commentino un saluto un segno del vostro passaggio sicuramente sarete in ferie anche voi non so che minimamente perché sinceramente non so neppure che tasti sto premendo perché effettivamente sono un fuori in forma diciamo per quanto riguarda il giochino qua il giochino nell'attesa come avete potuto ben vedere in questi in questo scorso mese che uscirà il 25 per cui ovvio che qui la tensione e l'attenzione sta calando miseramente perché in effetti sto perdendo un po di volontà oltretutto ci sono anche giochi nuovi che stanno uscendo che sono usciti per cui insomma mi prendo anche un po i miei tempi perché sennò non la finisco più allora no devo soltanto sto andando al negozio perché 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 sto andando al negozio per prendermi l'irroratrice che a fine mi serve una volta solo perché devo togliere staccacchio dei di erbaccia la vado a togliere tolgo un po tutto snelliamo il gioco e alla fine voglio portare qualcosa ma non doverci morire su perché qua come che sto operaio magico molto bene allora io come sempre vi lascio il gameplay perché questo è in timelapse è un bel timelapse per cui ci vediamo dopo appena ho fatto le cose che devo fare quello che non so è cosa fare ecco come sempre alla fine ottimo ecco 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.